Yuri Campofiloni, il ritorno di campionato dopo le emozioni e i brividi della partita di Prato era contro una grande corazzata, ne è venuta fuori intanto un'altra partita al Cardiopalma. Beh sì, è stata una bella partita e finire la partita contro i Tiene e essere anche arrabbiati per il risultato con la giusta modestia vuol dire che è importante, insomma abbiamo fatto qualcosa di importante. È divertente sbaragliare quello che la carta d'estate dice, insomma è abbastanza divertente erano due squadre favoritissime, sono comunque due squadre favoritissime, due squadre fortissime aver giocato alla pari è addirittura meglio, questo è il mio punto di vista, del Tiene ci fa altro che soddisfazione. Anche perché oggi era un'altra di quelle riprove dove la gioventù e anche il fattore giocatore italiani contano nel confronto tra Tiene e Futsal Fiorentina. Ma sì effettivamente c'è stato un momento in campo parlavano solo il brasiliano, sembrava più una partita intercontinentale di Camp Nou di Serie B. Non lo so, il Veneto investe molto sui brasiliani, sui sudamericani che sinceramente hanno una qualità notevole. Noi siamo una squadra tutta italiana e non solo tutta italiana io direi anche gran parte toscana e direi anche gran parte fiorentina e quindi giocare con questa maglia nella squadra della nostra città ci rende ancora più, ci dà ancora più quell'orgoglio che forse tanti brasiliani da piedi buoni magari non hanno. Come nasce la preparazione di una partita così attenta come questa, meccanismi difensivi, capacità di occupare gli spazi che è stato anche quello che ha bloccato la manovra offensiva del Tiene? Noi sappiamo e sapevamo quando è uscito il calendario che le prime giornate tra la Coppa i campionati erano tremendi, erano terribili quindi ci siamo calati in quella che è la mentalità con l'umiltà giusta, sappiamo quali sono le nostre qualità, abbiamo lavorato tantissimo in preparazione dal punto di vista fisico, abbiamo impostato molto il lavoro sulla forza applicando poi la forza alle ripartenze a una difesa molto esplosiva abbiamo lavorato tantissimo sulla difesa e ne stiamo raccattando i frutti. La realtà è che anche con la palla tra i piedi stanno venendo fuori dei bei meccanismi i ragazzi stanno apprendendo gli schemi bene ma lo fanno con il sorriso tra le labbra quindi divertendosi e questa credo sia l'alchimia giusta. L'ultima valutazione è sui singoli, si sblocca Di Lalla e ritorna Di Lauro pregi e vantaggi di queste due situazioni? Beh assolutamente, Luca non lo scopro io, Luca è uno capace di segnare secondo me in qualsiasi categoria Vincenzo è un altro martello, è uno dei giocatori che non tira mai indietro la gamba ha tanta qualità anche se spesso sembra che abbia solo quantità ma è veramente tanta qualità, ha carattere, ha personalità la squadra ora è completa, io vorrei ringraziare perché poi la partita si vince e si pareggia si creano delle situazioni importanti per tutto il gruppo i due ragazzi non convocati, Ambrosini e Guerrini, sono venuti di sua spontanea volontà a fare il riscaldamento con la squadra e questo probabilmente vale più di qualsiasi altro brasiliano o di qualsiasi altro giocatore questo è un gruppo veramente tosto io cosa potrà poi alla fine fare non lo so fatto sta che vanno un po' tenuti calmi perché sono veramente tanto convinti di quello che possano fare quindi vediamo un po' Grazie e complimenti Mr. Campofiloni Grazie a voi